Sì, non ho visto il colore. Ciao, mi aspetta sicuro. Mario l'ha acchiappato proprio mentre stava qua. Guarda, guarda, ci muoviamo, guarda come sta muovendo. Questo qua con le auricolari. Ah sì, mi sembrava meglio. E anche il figino. Ah, ecco. Come si chiama? E' lì. Ah, buono, buono. Ah, sicuro, ci stiamo prendendo. Allora, questo sarà il nostro quartiere generale. Allora, volevo dire che domani è domani, lunedì faremo una puntata per divarare due da qua, chi vuole venire? Io ci sarò! Anche io! Presente! Presente! E va bene, per una mattina, solo una mattina, poi dopo cominceremo a divarare due di notte quando Benzefù ci darà la linea. Benzefù ci darà la linea, benzefù ci darà la linea per chi dorme. Benzefù ci darà la linea, perché se non sarebbe da cantarvi e comincieremo tardissimo, finiremo tardissimo, comunque sarà molto divertente. Se volete venire qui il posto c'è e ci rivediamo. Adesso, dopo l'arrivare il tasto di Viva Rai Lui, dobbiamo girare a spessi di chi il Madesco e stiamo aspettando Amadeus che viene in ritardo. Come sempre. Amadeus! Amadeus! Allora, chiunque ha messo in vista Amadeus, è pregato di riferito perché l'appuntamento è dalle undici. Allora, come si? Chiamo Giovanna! È bellissima! Allora, non lo vengo a incontrare, non lo vengo a incontrare. Allora... 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 E tu adesso ci pensarebbe che consigliate... eh... Allora... Guarda... Guarda qui sta fin culture... La. Va va, va... Look, va, va... La, va, va... Famangliore! Ma vi posso vedere che anche buoni festival io verrei a vivere qua, sarei tutto il giorno affacciata qua. Vabbè, ma io si infilino. Oh, domani, su che dia alle 6, vedrete che succede qua. Sogni tranquilli, vedrete, vedrete. Bravo! Si chiama qua da Bambi di Gerremo, ma da, ma da, ma da, ma da, ma da, ma da, ma da. Allora, ragazzi dobbiamo fare uno scongiuro, un qualcosa del nuovo pezzo, perchè l'ultimo, questo è l'ultimo. Vetti, vada Bambiergia, guardate. No! Si sa e ci sarà l'anno prossimo, fissà, perché noi lo sappiamo già, però. Si, possiamo dire che stiamo in buona maniera? Sempre si, mi può dire. Ma voi ci credete che questo si ferma? No! No! Adesso, tra l'altro, non lo farà adesso, ma durante il fese, per non buscare la tua sera, uno dei numeri bellissimo, con l'artice salotto, metteremo una piccola pedana qui e ci darà la finta, arriverà il sogno per piano e arriverà di culo per me, ma anche sul palco per l'artice, l'acqua, però, scusate, scusate, abbiamo qui a destra, sono qui, qui abbiamo due le decinezze, centro, e sai cos'è, quando si mette su un balcone, con un verano come Emo 14, l'acqua, lui è preciso, guardi, se non Emo 14, appena volete, scendete davanti, un palco è incizionato, un palco è incizionato, un palco è incizionato, un palco è incizionato, vai vai, fai il grugno in avanti, Allora, chi vuole un biglietto di Sanremo? Nessuno! La fregatura! Ma che è lazza? Ah no, se vuole un biglietto di Sanremo? Allora, facciamoci, entrate all'arito, mi rompete e... Brava, brava! Bravissimo! Ma tu decido che cavallo? Allora, colonnello, ma diciamo... Ma le ciao, la facciamo più... Più a me? Allora, ma le ciao, questo qua, è un cavallo di ritorno, lo sai? Lui, il tuo papà è un istituzione di editazione, la mamma pure... Allora, è stato concepito in una stalla. Il primo partito, anzi, è il primo dignito, quando è nato, com'è fatto? Ma voi, non potete che io conosco da anni, ancora oggi lui, adesso ha imparato ad andare in bagno, adesso, ma se no, lui la faceva come cavalli, camminava, da vincere, oh, oh, è un bravo cavallerisco, vi faccio capire che è un esperto, che monta a palto, la monta inglese è quella di mio padre, poi mi sono diventato anche quella monta americana, che sarebbe la monta western, avete capito di come monta questo? Avete capito? All'inglese, all'americana, io devo fare quella piccola, la piccola non ha bisogno, non che scendete del cavallo, ma dello scecco, dice si scecco, il dialetto è l'asino, mentre tu le fai, eeeh, ma aria non si vincere giù, tra i tuoi favori tu, come me l'ha mangiato, oh, del scecco mio, bravo! che bello! che bello! grande! grande! grande fiore! grande! grande! grazie! grande! ma quest'anno con l'aristonello qua ci si divertirà veramente, quindi noi vi vediamo lunedì... grazie!